Ciao ragazzi, la quarta volta che vi faccio questo video ce la posso fare, varie interruzioni. Allora, il nuovo libro che vi propongo, la nuova videorecensione, è quello appunto dell'ultimo libro di Massimo Carlotto, La signora del martendì, in edizioni EO, tra l'altro sono sempre più sui dati ogni volta che accendo la videocamera, ha il costo di 16,50 euro, l'ho preso in biblioteca, e ha 212 pagine. Allora, la trama ruota intorno a quelli che sono i tre protagonisti della storia. Bonamente, che è un attore porno costretto alla panchina in quanto ha avuto un ictus, e appena questa cosa si sa all'interno di uno studio di film porno, viene assolutamente escluso dal giro. Il signor Alfredo, che è il proprietario della pensione Lisbona, dove Bonamente abita da tanti anni, è la signora del martedì, Nanà, che è la signora che ogni martedì da 9 anni frequenta Bonamente, dalle 15 alle 16. Lei è sempre stata molto chiara nei confronti di Bonamente di non volere nessuna relazione, vuole soltanto avere un rapporto con lui carnale. Sostanzialmente succede che Bonamente è follemente innamorato di lei. Il signor Alfredo, che è un nomino molto particolare, un uomo anziano, che è un travestito che però si veste da uomo, quindi immaginatevi una persona comunque che si veste da uomo, però ha una parrucca molto appariscente e anche un trucco, che è molto preoccupato per Bonamente perché rimane l'ultima persona che gli resta. Dopo aver detto addio all'amore della sua vita, decide di andare a parlare con Tommaso, l'avvocato che abita con Nanà. Tommaso ha lasciato tutta la sua famiglia per i sensi di colpa, per non essere riuscito a difendere Nanà nel corso di un processo che l'ha vista condannata per omicidio che lei non aveva commesso. Quindi, dati i sensi di colpa, un po' per recuperare che questa ragazza, appena uscita di carcere, si era cominciata a prostituire, a spacciare, ha deciso di prendersela in casa, affittare una casa per lei e per lui e lasciarla a famiglia. Tra di loro non esiste nessun rapporto sessuale, ma soltanto un bene paterno. Quando il signor Alfredo, che non è a conoscenza di questo rapporto, ma pensa che Nanà sia l'amante di Tommaso, dell'avvocato, decide di presentarsi da Tommaso dicendo di dire a Nanà di smettere di frequentare questo gigolò, che è appunto buonamente, perché è molto malato. E che quindi avere rapporti con lei potrebbe farlo ammalare di più. Potrebbe causargli un altro ictus, sostanzialmente. Tommaso, preso la sprovvista, lo etichetta come brutto frocio per allontanarlo immediatamente. Il signor Alfredo, che è una persona abbastanza riflessiva, in realtà in questo momento è preso dal panico, dalla risposta molto brutta che gli ha dato l'avvocato Tommaso, lo investe ammazzandolo sul colpo. Da qui il destino di Nanà, buonamente, signor Alfredo sarà intrecciato in maniera molto stretta. Infatti dovranno mettersi un po' a tavolino a pensare quello che succede, perché il signor Alfredo per ora non è indagato. Soltanto un ex giornalista in pensione ha capito che c'è qualcosa che non va in questo incidente. Mentre la pubblica accusa proprio mediatica dà la colpa a Nanà, dice che sostanzialmente il suo carattere da assassina è tornato alla rivalta, questo giornalista sa che non è stata colpa sua, pur odiando Nanà. Quindi si dovranno barcamenare un pochino tra le indagini della polizia, che vertono inizialmente su Nanà, ma che poi scagioneranno, perché lei comunque ha degli alibi, e questi altri due personaggi che comunque vengono tutti a conoscenza della storia. Insomma, è un libro da un intreccio abbastanza complesso. Il libro di per sé è molto scorrevole e leggero, insomma l'intreccio è un po' più complesso, nel senso che ci sono vari personaggi, ogni personaggio ha un po' una sua storia, e quindi magari dovete fare un pochino più di attenzione al percorso di ogni personaggio. Se capitava che mentre leggevo il libro mi venisse l'abbiocco, sapevo che il giorno dopo dovevo riprendere una o due pagine per capire bene la storia dei personaggi, e del perché si sono mossi fino a questo punto. E niente, appunto, ripeto, al libro attribuito 3 stelle su 5, non mi ha lasciato molto, ecco. I personaggi li ho trovati forse un po' caricaturali, soprattutto quello di Nanà, ma anche quello dell'attore porno, perché comunque mi sono sembrati veramente un po' sopra le righe, ecco, esagerati. Poi vabbè, Carlotto in realtà ha un modo di scrivere che a me piace molto, quindi lo leggo sempre volentieri, anche se con questo volume non mi ha soddisfatto pienamente. Ecco, quindi questo qua è il libro, se volete dargli un'occasione, comunque una lettura piacevole, anche da fare sotto l'ombrellone, che comunque è un libro noir, in questo caso non guasta mai. E per ora è tutto. Io vi spero di vedervi presto, o meglio, siete voi che vedete me, comunque adesso in lettura qualche libro che mi porterò anche al mare, se riuscirò a terminarne uno, vi farò anche una video recensione dal bellissimo Avruzzo. In questo momento è tutto, io vi abbraccio e ci vediamo qua sul mio canale. Ciao ragazzi!